Ciao a tutti da Slima, Malta. Da questo scenario vi farò vedere un camera car, anzi un camera scooter dello Xiaomi M365, questo qua. I freni dietro a disco, i freni davanti in ABS, azionabili tutte e due con questa leva, poi c'è una luce, di giorno ovviamente non lo vedrete, poi luce posteriore che quando prendete si accende e adesso vedrete una specie di ripresa dal video per vedere come ci si sente sopra, mentre si guida. Ok, bentornati. Adesso all'interno di a tutti. Grazie 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 a tutti.